le colpe di quel branco di stronzi di deficienti di teste di cazzo che ancora vanno in giro con il sacro feticcio davanti alla bocca 21 aprile 2022 barone vassallo buonasera a tutti allora stavo ricordandomi quando verso dicembre vi raccontai di quella ragazza poco poco intelligente che io conosco la quale qui in italia andava in giro sempre col sacro feticcio e ha fatto tutti i sacri rimedi possibili immaginabili scusate se ho i capelli scusate se ho i capelli tutti tutti scampigliati ma c'è un vento fuori che non si riesce non si riesce neanche a muoversi e ha fatto tutti i sacri feticci sta otto ore al lavoro mascherata e via discorrendo questa povera scema quando è andata in vacanza in inghilterra ha trovato già a dicembre i primi di dicembre addirittura se non fine novembre un mondo che già era fuori da tutta questa balla quindi addirittura in metropolitana nessun sacro feticcio addirittura all'aeroporto nessun sacro feticcio nelle stazioni dei treni nessun sacro feticcio e lei viveva normalmente addirittura ci ha mandato delle foto sul treno in un pub via discorrendo senza sacro feticcio senza niente come se nulla fosse noi a dicembre 2021 eravamo proprio nel culmine della nuova cazzata delle nuove balle quindi avevano appena introdotto il sacro pass avevano riobbligato il sacro feticcio il sacro feticcio ffp2 tutte queste schifezze queste stronzate che un popolo con un minimo di cervello un minimo di capacità di ragionare avrebbe tirato via avrebbe negato in una maniera violenta forte e invece siamo quasi a maggio e vediamo ancora questi deficienti tutti mascherati addirittura in macchina da sola da soli addirittura all'aperto addirittura nei parchi addirittura nei campetti da footing da allenamento e via discorrendo addirittura avevo parcheggiato la macchina una cretina mascherata che non ci capiva più niente quasi che mi prende la macchina per fare retromarcia perché non ci capiva più niente con questo feticcio sola sola in macchina adesso questione di cinque minuti fa il governo è fatto da personaggi che sembrano poco furbi ma in realtà sono di una furbizia e di una scaltrezza che il popolo italiano se lo può proprio sognare quindi subito che succede vedendo tutto quello che hanno fatto che continuano a fare questo branco di scemi andiamo a leggere la notizia che era immaginabile ma già da sacri fetici obbligatori ad oltranza preiasco ordina speranza e speranza obbedisce con piacere una decisione che non ha alcuna valenza sanitaria meno male che ancora qualcuno lo dice circa due milioni di italiani sono stati all'estero per le vacanze lì hanno visto che non ci sono sacri feticci né sacri pass e in questi giorni non faranno altro che raccontare ai loro amici quanto bello sia stato non dover pensare a queste cose cioè pensate pensate voi addirittura adesso i giornalari giornalettari i giornalettari addirittura lo ammettono solo sto popolo di amebbe non so come non so come definirle di invertebrati di lombrichi di vermi vi giuro non so non so come non so come come li definisci queste persone come definisci persone che da sole in macchina vanno mascherate a meno che tu non sia un un truffatore un un ladro un malavitoso ma dove vai mascherato sarà forse anche per questo che ora il governo sta pensando di togliere i sacri feticci anche in italia prima che scoppi una qualche guerra civile che non scoppierà mai questo giornalista questo giornalista anzi uno un po meno un po meno scemo degli altri però non tutti sono d'accordo pezzi della maggioranza in primis e televirologi a seguire ed è proprio prigliasco docente dell'università statale di milano che interviene per fare dei distinguo togliere il sacro feticcio al chiuso via ma non per le scuole i ragazzi tra i più martoriati dalle norme forli del governo dovranno così continuare a pagare il prezzo più alto in classe a giugno col sacro feticcio a 30 gradi ma si sa prigliasco ordina e il governo esegue in termini precauzionali avverte prigliasco sicuramente sarebbe meglio che continuassero a portare la mascherina in classe fino al termine dell'anno scolastico non è facile perché per i bambini è più complesso e fastidioso tenerle ammette il direttore sanitario dell'ospedale galeazzi di milano ma sarebbe meglio in vista del 30 aprile quando scaderà l'obbligo del dispositivo di protezione in tutti i luoghi chiusi e dopo che il ministro della salute speranza ha spiegato che si deciderà dopo pasqua su ciò che avverrà dal primo maggio in poi pregliasco sottolinea ritengo che i soggetti fragili e le persone che li assistono a prescindere dall'obbligo debbano assolutamente continuare a indossare il sacro feticcio in situazioni a rischio meglio se ffp2 e così mentre dal primo maggio non sarà più obbligatorio il governo prorogherà l'obbligo dell'utilizzo di protezione a scuola dai bambini dai sei anni in su il personale ata e i docenti dovranno indossare sacri feticci chirurgiche ffp2 fino alla fine dell'anno scolastico credevo che scrivessero fino alla fine dei loro giorni e quindi fino a giugno come anticipa fanpage in una ultima riunione tra i rappresentanti del ministero della salute e quello dell'istruzione la linea di prudenza auspicata dal cadavere sarebbe stata confermata non cambierà neppure la regola delle ffp2 per dieci giorni dal contatto con una persona contagiata se ci sono almeno quattro positivi in una classe tra alunni e insegnanti secondo l'esecutivo infatti la situazione epidemiologica vede ancora il numero di sacri raffreddori consistenti procedere con l'eliminazione dei sacri feticci a scuola potrebbe pregiudicare la fine dell'anno scolastico nel frattempo però nel resto d'europa i sacri feticci sono già stati superati in tutte le scuole francia belgio regno unito olanda e da tempo non sono più nemmeno in considerazione questo è l'articolo della verità allora io ve lo dico sinceramente fino a qualche tempo fa attaccavo spudoratamente questo governo questo governo che ha fatto delle scelte scellerate che possono essere il sacro feticcio all'aperto che possono essere il sacro rimedio obbligatorio che possono però mi viene veramente molto spesso da dire che il governo non abbia tutte le colpe quando tu esci e vedi dei decerebrati continuare sotto al sole io ricorderò sempre l'anno scorso parco di roma sud vicino ai campi della roma quindi praticamente lo zero assoluto non c'era nulla io esco alle 14 per andare fuori casa avevo l'aria condizionata a palla in macchina la macchina che era già fresca perché era stata in garage ma nonostante tutto faceva un caldo infernale una signora con la sua badante sotto il sole coccente delle 14 faceva una leggera saluta salita nel nulla mascherate tutte e due questo è solo un esempio ce ne sarebbero centinaia di migliaia studenti studenti dell'università studenti io abito di fronte all'università l'università i ragazzi che dovrebbero essere l'intelligenza di questo paese quegli universitari che un giorno saranno la cultura di questo paese gli uomini di questo paese il lavoro di questo paese all'orario di pranzo mascherati sotto il sole si baciavano tra fidanzati col sacro feticcio veramente guardate ragazzi il problema grave di questo paese non è il governo è il popolo loro lo sanno ed ecco i risultati ci vediamo domani ciao a tutti